Gli agenti della Polizia di Stato e della squadra mobile sezione Falchi a Ponte Cagnano-Faiano, dopo appostamenti e verifiche, hanno avuto il fondato sospetto che all'interno di un appartamento vi fosse la presenza di un transessuale di cittadinanza sudamericana che esercitava la prostituzione. Durante gli appostamenti venivano identificati tutti gli avventori per riscontrare le ipotesi investigative e una volta acclarati i fatti i poliziotti facevano irruzione all'interno dell'appartamento dove veniva identificato il transessuale trentenne di nazionalità colombiana che fruiva periodicamente dall'appartamento infitto per consumare prestazioni sessuali a pagamento. Dalla successiva perquisizione è stato rinvenuto materiale utilizzato per esercizio della prostituzione ed un telefono cellulare utilizzato per ricevere i contatti dei clienti. Dagli accertamenti e spediti si riusciva a risalire al proprietario dell'immobile. L'uomo salenitano di anni 51 che percepiva circa 350 euro a settimana per l'affitto dell'immobile veniva deferito all'autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento della prostituzione e l'appartamento veniva apposto sotto sequestro. Grazie a tutti.